Ciao sono Lori, benvenuti al tuo canale Cagna Dulce e Cagna Brava, la tua migliore opzione in varietà e farandula. Noi, come sempre, ti portiamo tutto quello che accade in farandula dalla parte del Sud America e Spagna e non solo. Digono che la fidanzata di Piqué, dell'escalciatore Piqué, Clara Chia, avrebbe potuto rifiutare le somme milionarie che le sono state offerte per dire in televisione che ha avuto una relazione con un allenatore di calcio. E' chiaro che la ragazza non è stupida e sa benissimo lo scopo che cercano con questo, che è farla lasciare del suo amato. E' logico che lei preferisca non vendersi e rimanere felice con il suo amato Piqué, rispettare la sua intimità e privacy e vivere la vita normalmente con il suo amato. Non sembra, non sembrarebbe interessata a mentire per fare soldini, come dicono, un po' di soldini per fatturare. E questo ha causato polemica perché la ex compagna di Piqué, l'artista internazionale Shakira, lo slogan è e le donne non piangono più, fatturano, fanno soldini. Dici te che ne pensi nei commenti che io li leggo. Saluti!